Ed eccoci qua! Ciao amici! Ed eccoci qua per una nuova lezione tutti insieme! Allora, siete carichi? Questa sera ci dobbiamo veramente devastare! Allora, ho accettato le vostre richieste, ho rimesso la maglietta vecchia, mentre aspettiamo che arrivino le nuove. Però non la metterò sempre ragazzi, perché non mi piace tanto. Pronti? Ci siamo? Iniziamo a scaldarci da subito e si va subito a terra! E andiamo! Grazie ragazzi per quello che state scrivendo, è veramente emozionante! La cosa più bella è proprio sapervi lì, tutti belli! Scusatemi se non riesco a rispondere a tutti o rispondere a tutti i vostri commenti, ma piano piano ce la farò! Però è fantastico ragazzi, forza adesso devastiamoci, devastiamoci! E andiamo! Cinque, quattro, tre, due, uno, subito! Apre! Cambio! E andiamo! Sì! Forza ragazzi, forza! Forza! Tres, due, uno, rimane! E tre, due, uno, cambio! Tre, due, uno, ritorna! So! Logga! Tengo bene la posizione e adesso iniziamo a devastare... No! Non ancora! Stiamo nel riscaldamento! Tratteniamo gli animi! Tratteniamo gli animi! Tres, due, uno, ultimo! No! Su le braccia! Tengo la posizione! Tengo la posizione! Teniamola! Teniamola! E ancora! E ancora! E ancora! Cinque, quattro, tre, due, uno, no! L'avete vista! L'avete vista! Sale! Qua! Su! Scende! E andiamo! Ragazzi! Oggi ci devastiamo! E andiamo! Forza a tutti! Forza a tutti! Quattro! Tre! Due! Uno! E via veloce! E andiamo! Avete sincronizzato i vostri cardio-preconci metri! Siete pronti a farli esplodere! E andiamo! Velocissimi! Tiviamo! Più veloci! Cinque! Quattro! Tre! Due! Uno! Chiude! Rapidissimo! Veloce! Non venite troppo avanti con le spalle! Trinti! Faccia d'una! Andiamo! Andiamo! Veloci! 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 Cinque! Quattro! Tre! Due! Uno! Blocca! Marcia! Ispira! Ispira! E ancora! Ultimo! Si va! Qua! C'è anche la piccola! Cambio! Tento! Tre! Due! Uno! Si va! Uno! Due! C'è anche la piccolina con noi oggi! Forza ragazzi! Andiamo! Andiamo! Asi ancora con Vini! E ancora! Gestite sempre molto bene la piega flessone di entrambe le ginocchia ragazzi! Tenete la schiena dritta! Pancia dura! E vado bene in rotazione ma senza perdere l'equilibrio! E vado! E vado! Due! Uno! E cambio! Tengo bene la posizione! Tengo bene la posizione! Tengo! Tre! Due! Uno! Giù! Tre! Due! Uno! Si va! Uno! Due! Andiamo ragazzi! Andiamo! E andiamo! Forza! Per i potenti! E andiamo! Cinque! Quattro! Tre! Due! Uno! E arriva! Qua! Su! Cambio! 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 Adesso cresce sempre di più! Attenzione! Più! Sì! Ma avete già capito? Ragazzi vi dico solo che oggi non ho comunicato la lezione a loro! Perché spirgiavano e non glielo ho fatto vedere! Bene! Ultimo! Tre! Due! Uno! Lento! E via! E andiamo! Forza! 8 7 6 5 forza forza dove stai andando 2 2 2 ma come devo fare 1 ritorna giù a terra pronti cosa fai tu? vengoli tengo la posizione plank e la posizione siamo insieme siamo realizzati che sono lavorato no? non si fa fermi e alzi alla fatta apposta per farvi durare di più in plank e su e andiamo e ancora 5 4 3 2 1 blocca laterale subito troppo bello troppo bello ragazzi per me è un grande sogno che si realizza lo so lo so la strada è lunga ma è un progetto veramente a lungo termine e ci saremo ci saremo aiutatemi continuate a divulgarla come state facendo bravi 4 3 2 1 e su i piedi occhio ragazzi dissetratevi se volete farlo ricordatevi trattatevi in ogni istante e sentite l'esigenza ma fatelo poco e sovente e pronti ragazzi panubri come dobbiamo fare eh ragazzi preparatevi pronti ora ci devastiamo manubri si vedo la braccia tese ci siamo a fondo alternato ok ci vediamo ciao ritorna cambio e ancora e vado ragazzi forza e andiamo continui regolari mantenete la pancia dura stai effettivamente in asse e si va e via sarà pericoloso passare qua in mezzo e Joe piedi divergenti punta in fuori schiena dritta in tappeto in fuori scendo giù mi raccomando fate attenzione allo squat e non sballa avanti immaginate una parete di fronte a voi le braccia sono sempre distese e vincolo concentrato si si va lì e vado attenzione ragazzi tra poco sentiremo bruciare immaginate la proprio quella paretina qua e andiamo dopo me la farà pagare pesantemente e ancora tre niente c'è in ragazzi due attenzione uno fermi fermi tengo qua la partenza è da qua rimango alto cioè rimango basso alla stessa altezza arrasa e andiamo via non fate come lei non su e giù non su e giù non su e giù no no stessa altezza deve diventare cattivo perfido l'esercizio dovete sentir bruciare dappertutto e andiamo ragazzi lo sto facendo solo per voi di averla rindossata perché io la vedo un po' più grande un po' più alto ah scusate mi sono dimenticato di voi no scherzo ultimo e rimango qua per sale se 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 andiamo ah già non toccare nulla che se lo salta tutto il collegamento e andiamo e ancora ultimi due e dai uno e ultimo sinistro e su attenzione ragazzi non si molla non fate cura pronti ci siamo ci vanno mi mochia pronti e via so sale loro senza ruotare troppo tenete bene l'addome non ruotate troppo e fate attenzione alle spalle per chi volesse potete appoggiare la mano a terra e utilizzare solo braccio e andiamo 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 mi raccomando gestite molto bene la vostra schiena molto bene quindi la posizione e ancora e ancora ultimo lo sono visto sta riuscendo sempre di più perché voglio scappare 1 attenzione e 2 in piedi e via iron cross e andiamo e andiamo ragazzi e andiamo 6 6 6 8 continuiamo 7 6 5 4 3 2 1 10 pesetti e adesso arriva la parte difficile pronti 3 e vado pam 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 si e andiamo 3 2 1 cambio e andiamo oh 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 l'avete aspettato l'avete aspettato mi è piaciuta anche l'esercito sai ci voleva portare avanti cioè ragazzi dovete ringraziare ma non mettiamo l'esercito ma l'esercito ma l'esercito ma l'esercito se l'esercito se l'approfittano perché sono in diretta se l'approfittano ultimo e ancora uno e via ragazzi e andiamo velocissimi attenzione perché facciamo stretto largo stretto largo e poi jump largo e stretto 4 3 2 1 largo al più veloce ragazzi vi sto guardando tutti veloci veloci 5 4 3 2 1 stretto ultimo largo e poi iniziamo finalmente a praticare un pochino 3 2 1 largo 3 2 3 3 4 4 6 6 6 ragazzi ci siamo iniziamo a fare sul serio e andiamo ragazzi andiamo 1 1 4 3 2 1 2 1 3 tappetino ragazzi tappetino momentario 3 3 4 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 11 11 11 11 12 12 12 13 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 18 18 20 22 16 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti